Good morning Juventus. Tante volte vi ho fatto presente che il sottoscritto non segue gli altri campionati. Faccio fatica a seguire quello italiano, ma soprattutto perché mi dedico sulla Juventus a 360 gradi, seguendo tutte le mie sfaccettature. Per cui quando mi sono dovuto cimentare con la valutazione dei nuovi acquisti fatti da giunto di quest'estate, io ho ammesso candidamente, perché non c'è nessun bisogno di inventarsi cose che non sono, che io Douglas Lewis, per esempio, che è argomento di questo video, non lo conoscevo, non sapevo neanche la sua esistenza. Però ne ho sentito parlare benissimo da Pedulla, che stimo, ne ho sentito parlare benissimo da Lapo De Carlo, che stimo, è interista, è uno che sa che questo giocatore va la Juve, ne parla benissimo dicendo che è un grande giocatore, mi fido, perché in genere gli interisti milanisti tendono a sminuire gli acquisti che fa la Juventus, giusto per, no? Giusto per, un po' per spocchia, un po' per, diciamo, per bandiera, un po' per, anche per così, fare un po' gli spiritosi. Poi questa mattina, siccome io ci conto che Douglas Lewis sia un grande giocatore, perché i piedi buoni ce li ha, questo l'abbiamo visto tutti, però questi piedi buoni per adesso non sono stati messi al servizio della squadra, anzi, purtroppo, noi lo ricordiamo per due rigori che ha provocato, uno in dolore perché alla fine siamo riusciti a portare a casa la partita all'Ipsia, l'altro assolutamente grave perché una partita che era, anche se striminzita, ma era già vinta, lui ce l'ha praticamente fatta pareggiare e ci ha portato via quei due punti che adesso ci sarebbero serviti per essere in cima alla classifica più vicini al Napoli e non a tre punti. Bene, allora, stamattina faccio la rassegna stampa, siccome cerco sempre di trovare notizie interessanti quando il calcio si allontana dal terreno verde, perché quando c'è la nazionale, ve l'ho detto anche l'altro giorno, è una rottura di palle per me e trovo un'intervista a Paolo Di Cagno che è veramente lui un esperto del calcio inglese perché ha giocato in Inghilterra, vive in Inghilterra, segue il calcio inglese, adora e ama il calcio inglese e non è sicuramente un fan della Juventus, sì ha giocato nella Juventus ma lui è laziale fino al midollo e soprattutto non è certo uno che spende parole di miele per la Juve, anche se ha detto che gli piace Tegomot. Allora io vi leggo un passaggio della sua intervista riferito a Douglas Lewis, dopodiché farò il commento a titolo personale di quello che vi ho appena letto. Gli chiedono se aspettava un inizio così difficile per Douglas Lewis nel campionato italiano e Paolo Di Cagno è un virgolettato quello che vi leggo, non tolgo, non aggiungo nulla, risponde ecco proprio lì volevo arrivare perché Douglas è un giocatore di cui parlo spesso, non solo con i tifosi della Juve. Io mi ero espresso, avevo detto che la Juve ha preso un top player, da qui il titolo che ho messo nel video, top player e ne sono ancora convinto. Semplicemente quello che ho visto qui è un lontano parente, è irriconoscibile. Al di là della valutazione da 50 milioni, che per me è anche giusta per il livello del calciatore, è davvero un'altra persona rispetto a quella che ho visto tante volte, tante volte, tante volte nella Stoneville. Non do colpe né al giocatore né all'allenatore, non so come sia la situazione, ma potrebbe esserci magari un problema psicologico, che è quello che tra l'altro penso anch'io. Lo vedo lento, poco aggressivo, tocco la palla con la suola, perde un tempo di gioco, sembra come utilizzare due marce in meno rispetto a prima. In premier aggrediva il portatore di palla, recuperava e ripartiva, tagliava e cuciva, cadeva e ripartiva subito, aveva un altro passo, pareva un pitbull, chiedo scusa. Io giudico la situazione adesso, perché poi il calcio è situazionale, contestuale e periodico. Spero che la Juve, spero per la Juve di Tiago Motta, riesca a fiare fuori l'attitudine da Douglas Lewis. Non ho dubbi sulla serietà del giocatore, all'Aston Villa era un idolo e gli volevano bene, può essere che qualche panchina lo abbia intristito. Normale che ora Tiago gli preferisca Locatelli, che è più applicato, più attento, più all'apito di testa e di piede. Signori, signori, il finale è un de profundis per chi ama il calcio. Quando io ho letto che è normale, secondo Di Cagno, che ha grande stima, grande considerazione di Douglas Lewis, che è normale che Tiago Motta gli preferisca Locatelli, io ho avuto uno scoramento, ho dovuto prendere quattro gocce di minias, non è vero una battuta, non prendo farmaci io. Però capite quello che voglio dire? È una roba tristissima questa cosa qua. Cioè, com'è possibile che un giocatore che fa faville in Premier, dove è più difficile giocare che in Italia. Nel senso che ti aggrediscono tecnicamente, è molto meno valido rispetto all'Italia. In Italia se sembrava tecnicamente salti tutti, quindi in teoria avrebbe dovuto giocare molto meglio in Italia da Douglas Lewis rispetto all'Inghilterra. In Inghilterra ti aggrediscono fisicamente, è un calcio molto atletico, di corsa, veloce, dove lui magari avrebbe potuto avere difficoltà essendo un brasiliero. E invece Inghilterra aggredisce, recupera, taglia, cuce, come ha detto Di Cagno, e in Italia dorme. In Italia dormi bambino, fai la nanna. Oh, ma che è sta roba? Cioè, io veramente sono, io non so voi, ma sono rimasto allucinato dal fatto che Douglas Lewis non è partito titolare la prima giornata, la seconda giornata, la terza giornata, la quarta giornata, la quinta giornata, a parte Empoli. Cioè, ha giocato a Empoli, tanto è una partita bruttissima, penso la più brutta in Serie A della Juventus fino adesso, insieme a quella col Cagliari, che poi col Cagliari non abbiamo proprio giocato malissimo, anzi, però abbiamo sprecato tantissimo. Per cui, signori, il calcio è veramente un mistero irrisolvibile a volte, perché così è accaduto a Zidane, poi è esploso diventato un mostro a livello di calcio, così è accaduto a Platini, che lo volevano rispedire, i tifosotti da bar lo volevano rispedire da Saint-Etienne, quel bidone lì, lo sentivo io dire, andavo a scuola, all'epoca sentivo dei commenti che erano vergognosi, gli interisti e i finalisti ci prendevano in giro, avete preso Platini, o forse avete preso, mi dicevano, no Platini, avete preso Platini o avete preso Piombi? Sì, Piombi, giocavano sul Platini e Piombi, no? Per quello. Cioè, adesso, sono passati tanti anni, quindi non mi ricordavo bene. E poi è esploso, è diventato il più grande giocatore che ha vestito la maglia della Juventus. Nedved, alla Lazio faceva sfarcelli, no? Forse il giocatore con cui possiamo fare il miglior paragone è proprio Nedved, perché Nedved si sapeva che era forte, dalla Lazio, da Glass-Lewis si raccontano che era forte alla Stoneville. Vengono la Juventus, Nedved viene la Juventus da Glass-Lewis, Nedved nei primi sei mesi sembra un rimbambito, sembra il peggior Krasic, poi esplode e diventa uno dei miei idoli, perché io adoro Nedved, uno dei tre giocatori che amo di più in assoluto nella Juventus. Per cui, Douglas-Lewis è veramente un enigma, non l'enigma della Sfinge e della settimana enigmistica, ma è un enigma, un enigma che speriamo di risolvere presto, perché noi abbiamo bisogno di giocatori che verticalizzano, giocatori che hanno fantasia, giocatori che danno palle a Vlaovic, che sanno inserirsi negli spazi, che fanno girare il centrocampo in maniera organica e come un orologio. E invece per adesso, citando sempre il mio amore per la natura e per gli animali, è un bradipo, un bradipo che scende lentamente dal tronco dell'albero perché ha paura di cadere in acqua, e nel frattempo però gli altri si addormentano, perché chiaramente è vero, non ha predatori, il bradipo perché non impressiona la retina dei predatori, però Douglas-Lewis non impressiona la nostra retina con le sue giocate, perché non le fa, fa soltanto colpi ed effetto che lasciano il tempo che trovano, non servono a niente, ma soprattutto adesso lui ha assurto la cronaca per due rigori che ha provocato, il primo è un regalo dell'arbitro perché uno che salta così per me non è rigore, il secondo però sì perché una palla che ormai era già andata, lui è andato a fare il body check, quello che viene chiamato body check al giocatore del Cagliari, regalando di fatto un punto al Cagliari e togliendone di fatto due alla Juventus, perché quei due punti li ha la gara di Douglas-Lewis, non è colpa né di Diego Motta, forse anche in commistione con Vlaovic, perché se Vlaovic fa il gol a porta vuota, 2-0 e il rigore di Douglas-Lewis va in cavalleria come quello con Lipsia, però ragazzi se tu sbagli sbagli, per cui signori augurandomi, augurandomi che prossimamente potrò fare un video dove tolgo il punto interrogativo che avete visto in questo di oggi, perché avete visto quello di oggi è top player, punto interrogativo, stiamo qua ad osservare perché francamente quello di Douglas-Lewis è veramente un mistero del calcio, perché è vero, è già successo e ho citato degli esempi, però francamente sentendo parlare, coloro che seguono la Premier, no? Pedulla, De Carlo e Di Canio ne parlano in maniera entusiastica di questo giocatore, dicono tutti che veramente è un top player, è un grande giocatore, se non volete dire top player, diciamo un grande giocatore, per adesso non lo sta dimostrando. Però, però, mi hanno detto sempre tutti quanti, Max ci vuole pazienza, Max ci vuole pazienza, Max ci vuole pazienza, a parte che quando tu investi 200 milioni sul mercato la pazienza è un po' limitata, un conto averla l'anno scorso che non avevi comprato nessuno a parte OEA, e allora lì magari potevi anche avere pazienza, ma lì venivi da due anni balordi e quindi la pazienza ormai se ne era andata, ma qui hai investito 200 milioni sul mercato, al di là di quello che hai speso o non speso, ma li hai investiti, hai fatto 200 milioni di acquisti e si spera che almeno per lo scudetto ci lotti, non dico che lo vinci, ma almeno si spera che tu lotti per lo scudetto e soprattutto che i costi onerosi come Copmanners e Douglas Lewis, i più cari del mercato, rendano di più di quelli di cui ho parlato ieri mattina, perché quelli di ieri mattina gli hai pagato un tozzo di pane e per adesso stanno facendo la differenza, Pierre Caloulu e Cisco Consensal, per cui waiting for Douglas Lewis, io vi saluto e vi auguro, good morning Juventus!